Ciao amici, come vedete ho in mano questa semplice pallina. Questa pallina si trova in tutte le lavatrici Whirlpool e penso anche in altre marche. Dove si trova esattamente? Si trova all'interno del manicotto di scarico che collega vasca di lavaggio alla pompa di scarico. A cosa serve questa pallina? Serve, secondo Whirlpool, a evitare quando la macchina finisce di scaricare che ci sia il risucchio dell'acqua di scarico per evitare che rimanga stagnante nel filtro. Però queste palline qua, a dire la verità, non servono a un casso. Perché? Perché anche quando la macchina finisce, comunque c'è un risucchio dell'acqua in tutti i sensi, quando la pompa si ferma. Quindi questa pallina io le tolgo in tutte le lavatrici Whirlpool. Che poi, se notate bene, una volta che dovete cambiare la resistenza o comunque cambiare qualcosa all'interno della macchina, vedete che tutta la sporcizia rimane dentro la vasca. Dove c'è il cesto, sotto il cesto. Perché questa pallina non permette tutte le sporcizie di entrare nel tubo? Perché è lei che fa da ostruzione. Infatti il filtro è sempre quasi del tutto pulito. Logico, perché tutta la sporcizia grossa rimane dentro la vasca. Io ogni volta cosa faccio? Quando faccio le preparazioni di lavatrici, specialmente ovviamente Whirlpool, questa pallina non serve a niente. Quindi questa pallina può essere utile a chi? Ai bambini. Una volta che la estraete, la disinfettate completamente con alcol e prodotti diciamo assettici e poi potete dare ai bambini che giocano. Provate a vedere un po'. Ecco, questa pallina non serve a un cazzo.